Insomma è un obbligo fare quel protocollo, il protocollo sicuramente e tu che fai a chiedere il corso, a comprare pelliccia, ma che ci fai, ma che ci farai? Allora io, che mi diverto anche a fare la scrittrice, ho scritto il resto della storia, perché proprio lì ho la mia, ma che ci farà? Che ci farà questa signora con la pelliccia? Allora, qua aspetta l'inverno, va a sciare a Stato oppure delle montagne, insomma viene qua, ma vedete voi un negro africano venire, cioè partire dall'Africa con gli sci e venire qua proprio a sciare. Ma ci ho provato io, vivo qui da 33 anni, ho fatto una spaccata che per poco mi ricoveravano, e veramente, posso dire Stato oppure i sci? Allora ho immaginato che pur di esibire questa pelliccia, faceva mettere a tappeto, no? L'aria commissionata nel palazzo presidenziale, o dove, veramente, no perché, perché se no qualcuno mi deve spiegare come fa. Ma scusa, tu vedi aduare a qualcuno con la pelliccia? Ma lo vedi, ma neanche a Cian dove si è stato, ma ce lo vedi? E parliamo di guerra, questi non sono signori, non sono dei signori stupidi, sono signori, no, sono signori che sanno bene quello che fa. A chi giova? A qualcuno giova. Giova a colui che poi farà i suoi conti miliardari in Zizia, e li faranno e li faranno, nei paesi, come si chiama, dove non c'è, non si pagano le tappe, ma insomma nei paradisi fiscali. Oh, ma non sono pieni i governanti africani che sanno molto bene questi luoghi. Ma ci faranno un africano con una pelliccia al mondo.